Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Honda TG, eccoci con il nostro appuntamento settimanale con la purisma. Oggi voglio commentare un episodio di quelli che capitano un po' a tutti quanti, un episodio riguardante uno stato di collera, di ira, che è successo a due miei conoscenti, due carissimi amici, che in un momento di incomprensione, che forse uno dei due stava un po' arrabbiato, aveva dei pensieri, aveva qualche cosa che lo turbava un attimino, non ha capito la battuta che gli ha fatto l'altro e gli ha risposto male, quindi si sono un po' alterati. E anche quello che ha ricevuto la risposta diciamo un po' fuori luogo, si è preso, però poi parlando mentre ci prendevamo un caffè mi ha detto, ah mannaggia tizi, gli ho fatto una battuta, questa incazzata mi ha risposto male, mi porta un po' il muso. Vabbè, io gli ho detto una cosa, la superbia va a cavallo e rivea la pietra. Ed è quello che si dice a Sulmona in questi casi, quando ci si arrabbia facilmente con qualcuno, a volte anche per motivi futili. La superbia va a cavallo e rivea la pietra, che tradotto in italiano significa la collera va a cavallo e torna a piedi. Che significa? Significa che, innanzitutto specifichiamo che nel nostro dialetto la superbia non è la presunzione, l'arroganza, cioè questa esagerata stima di sé, non ha lo stesso significato che ha in italiano. In dialetto la superbia è appunto uno stato di collera, è l'arrabbiatura, è l'ira, sarebbe la superbia in dialetto nostro. E quando uno sembra in dialetto sangazza, succede che fa presto ad arrabbiarsi, quindi la rabbia, la collera, arriva presto a destinazione in quanto è come se andasse a cavallo. Quando uno va a cavallo, che deve raggiungere una meta, che deve raggiungere un posto, va a cavallo, impiega poco tempo. Che sia il cavallo, che sia un mezzo, che sia una macchina, che sia una moto. Quando uno va non a piedi, ma va con un veicolo, e quindi può essere anche lo stesso cavallo, un veicolo animale, o qualunque altro genere, impiega sicuramente un tempo veloce, un tempo rapido, quindi fa subito ad arrabbiarsi, a cavallo. Quando poi si tratta di tornare a piedi, il tempo del ritorno si allunga di parecchio, per cui l'ira, la collera, a montare giù o niente, uno si incazza facilmente, fa subito, va a cavallo, perché fa subito, arriva a destinazione. Ma a calmarsi, a ritornare lo stato di tranquillità, ci vuole tempo perché appunto questa collera ritorna a piedi, quindi impiega un tempo più lungo. Cioè fa subito a bollire, ma ci mette molto tempo a sbollire, ci mette molto tempo a calmarsi. Basta avere la pazienza. Tutti possiamo avere una giornata negativa, tutti possiamo avere un momento di sovrappensiero. specialmente ora, da due anni a questa parte, con questo Covid, che oramai è diventata la nostra ombra in qualunque momento ed è diventato il nostro tormento. E penso che ognuno ha i cavoli suoi che gli ripassano per la testa, come si dice, no, ognuno ha cose che le passano in gocce. ed è facile trovare le persone che abbiano più predisposizione ad arrabbiarsi che non a stare calme. Tante persone hanno perso il sorriso, tante persone che prima dicevano la barzelletta e non la dicono più, tante persone che prima facevano il battuto e poi non la fanno più, tante persone che prima erano serene, tranquille, ora vedi che vanno parlando da sole, perché? Perché ci hanno mille cose che furono in testa. Ed è probabile ed è frequente che ci si arrabbi anche per cose così futili, che ci si arrabbi anche con le persone a cui vogliamo bene, che ci si arrabbi anche con gli amici più cari. Succede, non ci stiamo inventando niente, è una cosa che purtroppo la situazione del momento ci porta tutti ad essere più pensierosi e ad essere tutti più irascibili. Però quando ci si vuole bene che c'è l'amicizia, la rabbia ci mette tempo ma passa, svanisce. Quindi cari amici miei, perché mi sono riferito a questi bisogni di questi amici miei, ma lo estendo a tutte le altre situazioni, anche di persone che non mi sono amiche, ma che hanno delle incomprensioni fra loro, cari telespettatori, cari amici e non amici, quando vi capita di arrabbiarvi con qualcuno o di subire l'arrabbiatura di qualcuno, dovete avere la pazienza e la serenità che tutto passa. dovete essere, dovete capire, dovete avere la comprensione nei confronti di chi si è arrabbiato, così come noi stessi dobbiamo cercare di non far arrabbiare gli altri. La parola fuorofaso, è sempre stato così, solo che laddove prima si faceva una battuta che veniva recepita scherzosamente, oggi ci sta il rischio che la stessa battuta, nelle stesse condizioni, venga recepita male. Però questo non ci deve portare a rompere un'amicizia decennale con qualcuno o a rinnegare un rapporto di parentela o ad odiare qualcuno. Assolutamente no, non deve succedere. Così come non deve succedere nei legami di famiglia, perché questa stessa situazione che ho descritto fra le amicizie succedono spesso anche nei rapporti di famiglia, succedono fra genitori e figli, succedono fra moglie e marito, succedono fra generi e nuore, suoceri con suocere, succede nelle famiglie anche più affiatate. Perché? Perché il momento di incomprensione c'è sempre stato e ci può stare. Oggi, ripeto, è un po' più frequente, però bisogna essere un pochettino più tolleranti e non subito rispondere all'arrabbiatura con l'arrabbiatura o a che porto il muso, portando il muso. Cerchiamo di essere superiori, di far finta di niente, di tante mani un altro giorno e la cosa passa, per cui bisogna essere semplicemente più sereni, più tranquilli. Volemmo ci bene, volemmo ci bene, che non ci costa niente. Lo dicevano questo, sta frase lo dicevano i nostri emigranti quando tornavano dall'America, dagli Stati Uniti, dal Canada, nel momento in cui ci si salutava perché ripartivano, dicevano sempre sta cosa. Volemmo ci bene perché non ci costa niente. Ed erano delle parole sagge, una sacrosanta verità. Quindi, quando ci arrabbiamo per qualunque motivo, facciamo poi anche chi si arrabbia però, che poi è vero che è quello che subisce l'arrabbiatura, da essere tollerante, da essere tranquillo. Però pure tu che ti incazzi, fatta la pasta pure subito e stai a chiedere un cazzatore. No, non mettiamo sempre gli altri in condizioni di subire, di essere i santi nei nostri confronti. Pure una persona che si arrabbia, se si rende conto di essersi arrabbiato inutilmente o poteva evitare di arrabbiarsi, sii umile, fanno un cacchio da passi indietro, richiama a questi amici dei, guarda, scusa, ma io mi hai preso in un momento in cui stavo un po' alterato. Cioè, se ci tiene un'amicizia, non portare a questo amico con cui ci siamo voluti bene da tanto tempo e tu lo sai, quindi, cioè, l'ubiltà ci deve stare da tutte e due le parti. Dobbiamo essere tutti quanti un po' più propensi a volersi bene all'amicizia. Cioè, non è che deve essere sempre quello che mi incazza perché devo diritto a incazzarmi e tutti quanti altri hanno il dovere di sopportarmi e di tollerare. No, le cose devono essere da tutte e due le parti, devono essere bilaterali. Quindi, chi sa di incazzarsi facilmente, che abbia poi il coraggio di chiedere scusa. Chi sa che fa incazzare gli altri facilmente, se stia più attento, in modo che non fa incazzare. Quindi, cerchiamo di metterci un po' di attenzione gli uni e gli altri. Tutto qui. Per cui, la Superbio va a cavallo e rivea la pete perché fa subito a fare scena e ci mette tempo a decandarsi. Ecco il perché devo a cavallo e rivea la pete. Tutto qui. Arrivederci, buona serata e incazzatevi di meno. Grazie a tutti.